In questo video parliamo del taglio della pianta con la motosega, prego Stefano. Buongiorno, si procede con la tiratura del livello di benzina, adesso si tira la leva dell'accensione della motosega per vedere se parte, due o tre colpi giustamente, partito, si procede con l'accelerazione e il puntamento dell'obiettivo, incominciamo a affondare la rama per scalfire ancora un po' il taglio fatto prima, entriamo un attimo di più, poi andiamo successivamente dietro il ramo per facilitare l'appartimento del ramo scello. Bene, fatto questo, non contenti, guardiamo un attimo, si potrebbe fare di più, mi dite voi, è la tocca, secondo ramo, ma questo però lo battiamo. Obiettivo primario, l'attimo. E così abbiamo fatto il taglio della pianta. Così abbiamo fatto vedere come si taglia la pianta. Adesso liberiamo lo spazio per filmare, giusto? Abbiamo già anche trapiantata la pianta. Certo, la pianta è andata direttamente nel suolo, quindi non c'è stato nessun disquido e non ha tutta l'aria, no?